Prevenire opacità e infiltrazioni criminose nei rapporti tra imprese private è l'obiettivo di un protocollo firmato al commissariato del governo di Trento. Vediamo. Una firma per allontanare le infiltrazioni della criminalità organizzata dal Trentino è quella apposta sul protocollo di legalità da commissariato del governo e Confindustria Trento. Così Confindustria farà da tramite alle richieste delle imprese che vogliono ottenere celermente la documentazione antimafia dei propri fornitori. Una scelta volontaria per inserire anche nei rapporti tra privati quelle garanzie di trasparenza che già esistono quando si lavora con la pubblica amministrazione ancor più utili davanti ad alcuni campanelli d'allarme. Il presidente di Confindustria Fausto Manzana. Le condizioni economiche, quando abbiamo condizioni economiche esageratamente vantaggiose quando questa impresa non paga correttamente i propri dipendenti l'utilizzo appunto dei famosi contratti pirata. Le possibili infiltrazioni mafiosa affliggono numerosi comparti oltre a quello del porfido protagonista delle più recenti inchieste il prefetto Filippo Santarelli. E attengono al settore della ristorazione, alberghiero ci sono vari settori su cui la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine è particolarmente accorta. L'obiettivo è rendere l'intero sistema resistente alla criminalità anche per difendere i fondi del PNRR. Un tessuto garantito e certificato contro eventuali potenziali infiltrazioni di qualsiasi natura.